non sto laggando, sapete tutti i ragazzi appena di questo nome di me, che sei, Alex e io, ciao tu credi di non laggare? ma in realtà no succederà veramente bene oddio, dove siamo sono appotenti, non ci credo non è più ma, dove sei? che cazzo dai andiamo nel caso di dove è più si no spero non sia tu questo combatto con l'ingotto, scusa mi sta dito fatto un male però si si tu hai preso tutto già ah una cassa, che puro è spuota, che puro ok quel tizio andavo da parte del cassa accadete questa non l'ha vista, non puro averla vista prendi tu questi goggiamenti così almeno siamo potenti quante casse porca miseria allora veramente ma io l'ho avviato si, l'ho avviato uh bella si si allora l'hai trovata c'è un casco di oro c'è anche io le gambale? no però non so si intanto per questo qua dentro oh abbiamo cibo certo due polli ho vedo poi due biscotti si fa un pollo biscotti beh questa volta vinceremo se abbiamo pollo cazzo cazzo ehm 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 cazzo 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 C'ho un arco se vuoi No, non è facente Ok, fa forse Adesso ce lo io Abbiamo roba per fare equazioni? No Pound Cosa? Abbiamo fatto tutti e due il ground pound Ah, che folle No, ho sbagliato Ho sbagliato C'è un cazzo di queste cazze Dove? Una spada d'oro Tutto d'oro qua dentro Qua sopra? Vedi C'è un cazzo Perfetto Ah, ma il ghiaccio Vabbè, quando lo vediamo scappiamo Stiamo quasi a 100 mappa quindi Per ora stiamo al sicuro Col cazzo e col ghiaccio Vediamo se Sono più belli No, prelegono di meno Peccato Vabbè Comunque dovremmo andare Vabbè, è lento Possiamo ancora entrare in qualche casa non aperta Tipo questa qua davanti Che c'è? Una cazza Con un'ascia e un panino Un panino Qua sopra? Niente Niente Perfetto, andiamo Un cazzo Andiamo Eh, da dove? Boh Torniamo Presumano quella parte No, stiamo andando verso la morte Però fa niente Poi deviamo a destra Magari questa cazza è piena No Ma era piena di speranza Che cosa? No, qua è tutto visto Anche le casche Polla Ok, non ci resta che tornare veramente indietro E fare cudi alle persone Per trovare altre cose A meno che questa cassa è nascosta Nell'albero Infatti Attenzione Ah no, tu ce l'hai già Vediamo se devi difendere di più Non difendere di più Però è più figo Siamo metallizzati Quante cazze, mamma mia? Che cazzo Che? Che? Connection lost No! A post Che faccio? Ebbè, continua Che fallo Io contro un altro Si chiama finita già E vabbè, dai Che fallo Se è arrivato terzo Almeno No, dipende quando si è andato l'altro No, se è arrivato terzo Probabilmente non apparire terzo nella classifica Poi che ci si Ho legato Che fallo Non è colpa mia Spero di non vederla tragica Spero non sia troppo potente Tra l'altro sto detto Mace in merda TM Perché? Perché? Che fallo Non puoi sull'istortatore Lo troverò L'ammazzerò No No Cosa no? No, povero Sto facendo nel frattempo il parkour Ogni quanto despawnano gli oggetti che lascia a terra Ogni quanto? Despawnano Ok, in solito Dov'è? No Non è gare ora Dai Peccato non potessi Non potessi Ango G L'HF Che vuol dire Che cazzo vuol dire G L'HF G L'HF Che è l'acronimo Qualcosa di brutto Perché Perché No Quanto so che No Sì, sì Certo Più potente Mi raccomando Tutto in ferro Con Con l'ascia di diamante Incantata E col cane È bello Sì, sì Ancuno che mi suicida Non ti do Non ti do manco soddisfazione A posto Perché sono stupido Non siamo ancora arrivati a terzo Vabbè No Abbiamo vinto Anni circa